Sono con Matteo di ADV Wedding e siamo qui per parlare dei video di matrimonio che ovviamente insomma sono una cosa che non può mancare in un matrimonio perfetto. Come si fa un bel video? Ma con passione e soprattutto la passione di farlo perché deve piacere, è un lavoro di quelli appunto che deve piacere per poterlo fare. A me piace personalmente anche il mio socio Luca, lavoriamo sempre appunto in due, ci divertiamo molto sui matrimoni, cerchiamo di dare il massimo per rendere gli sposi il più contenti possibile. Fate dei video immagino divertenti perché insomma i video di matrimonio se non sono divertenti sono un po' difficili da guardare. Sì, cerchiamo di dare un po' di ritmo soprattutto poi al montaggio perché come dici tu giustamente il matrimonio può apparire noioso. Lavoriamo sempre in due, ci tengo a dirlo, per appunto avere anche al montaggio una varietà di immagini che ti permette di mantenere magari il video più ritmato. Cos'altro dire? Sì, divertenti, lavoriamo appunto in full HD quindi cerchiamo anche di dare una qualità, siamo due cultori della qualità video quindi cerchiamo di consegniamo appunto il matrimonio sia in DVD che in Blu-ray, con una copia Blu-ray che chi non ha magari la possibilità di vederlo adesso e in futuro comunque potrà vederlo. E lavoriamo sempre diciamo noi come studio, non deleghiamo mai nessun altro per fare le riprese dei nostri sposi, tanto che prendiamo un matrimonio al giorno. Bene, grazie mille. Grazie a voi.